Un grande orgoglio per la provincia dell'Aquila a partecipare al G7 ad Ortigia, anche per il tema trattato, quello dell'agricoltura, che per l'Abruzzo può davvero rappresentare un impulso allo sviluppo territoriale. Il presidente Caruso sostiene che serve una strategia nazionale che deve coinvolgere le istituzioni ad ogni livello. Al G7 si è parlato di aree interne, dunque la provincia dell'Aquila ha potuto esplicitare possibilità e criticità. Sul mondo della ruralità per Caruso si deve aprire però un dibattito a tutto tondo. È stato un grande orgoglio intanto, come presidente della provincia dell'Aquila, rappresentare le province italiane in quello che era il teatro europeo e internazionale, soprattutto del tema dell'agricoltura. Un tema che per l'Abruzzo è straordinariamente importante ed è forse quello che può rappresentare davvero una speranza di crescita per il nostro territorio tutto. Ospitiamo ovviamente nella nostra provincia il bacino ortofruttivo più importante d'Europa, abbiamo senz'altro la soddisfazione di averlo potuto anche riferire in quelle occasioni, evidenziando tuttavia la necessità di ridefinire il ruolo delle province, soprattutto per quella che è una politica agricola, territoriale, e quindi coerente con un rapporto distrettuale con il territorio rispetto a quella che è una politica europea, che poi si declina sul piano regionale, che forse non si attaglia alle differenze che si hanno sui vari territori. Da qui la nostra azione è formulata nelle due giornate del G7 Ortigia, dove abbiamo potuto evidenziare questa necessità, raccogliendo interesse e sicuramente quell'attenzione che questa nostra spinta, questa nostra azione propulsiva verso il riordino delle competenze della provincia possa avere in qualche modo favorito anche una maggiore azione di impulso sul piano della riforma in atto verso il Parlamento.